Domenica 28 maggio si svolgerà la ventitresima edizione di Transumando, la manifestazione che accompagna la salita ai pascoli dell'Alta Val Sessera, della mandria di Walter e Lauro Croso. Partite da Brusnengo verso la mezzanotte, le oltre 200 bovine raggiungeranno Valle Mosso per poi salire a Camondona, Bocchetto Sessera, Piana del Ponte e infine all'alpeggio di Campelli, di sopra, dove resteranno per l'interestate. E come da oltre 20 anni a questa parte, in collaborazione con Oasi Zegna, Comune di Valdilana e altre associazioni e istituzioni del territorio, il Dogby organizza per la giornata una serie di iniziative con l'intento di richiamare l'attenzione su una delle pratiche più identitarie della tradizione piellese. E se in passato la proposta per il pubblico era quella di seguire la mandria nel tratto cerale Bocchetto Sessera, il cambio di orari della transumanza impone ora di suggerire di attendere le mucche al passaggio dal Bocchetto Sessera verso le 9 del mattino. E da qui si potrà seguirle nella discesa verso la piana del ponte, dove la mandria sosterà per circa un'ora e avrà luogo la prima esibizione del gruppo ticinese di Corno delle Alpi. A conclusione di questo concerto, quando le bestie riprenderanno il cammino, il pubblico potrà scegliere di rientrare al Bocchetto o, nell'occorrenza della giornata nazionale delle miniere, visitare il sito Archeo Minerario Rirondolere e terminare dunque la mattinata con il pranzo negli agriturismi dell'Oasis Zegna. I più allenati invece potranno riprendere a seguire la mandria fino all'alpeggio di destinazione.